E' emersa proprio la necessità che la porta d'accesso ai servizi sia più semplice, più immediata, più fruibile da parte dei giovani e delle famiglie. Questo è uno degli aspetti emersi dall'incontro sul disagio giovanile organizzato dal Partito Democratico Arettino insieme ai giovani democratici. Un confronto tra scuola, sanità ed istituzioni su quella che sta diventando un'emergenza. Sono emersi un incremento delle richieste di intervento sia in termini di prevenzione che di presa in carico per disturbi per giovani con disturbi neurologici e psichiatrici, disturbi dello sviluppo delle funzioni cognitive, per disturbi delle funzioni affettive e sociali. E' emerso anche un incremento dell'uso di sostanze, quindi della dipendenza da sostanze e da gioco. Tra i relatori la dirigente scolastica Emanuela Caroti, il professor Paolo Martini, i dottori Licia Vallone e Giampiero Cesari, con loro la sindaca Simona Neri in rappresentanza dell'Anci. E' interventi di alta qualità che dimostrano che ad Arezzo ci sono professionalità sia nel mondo della scuola che della sanità e anche un bel terreno nel mondo delle associazioni in grado di rispondere a questa situazione, ma è emersa anche la necessità che in questo settore occorre fare degli investimenti. Naturalmente occorre anche che ci sia un maggior coordinamento interistituzionale. Questo potrebbe essere un ruolo sia del Comune che della Regione. I lavori sono stati conclusi dallo stesso Luciano Ralli, capogruppo PD in Consiglio Comunale, che sull'argomento aveva presentato già anche un atto di indirizzo. I giovani, le famiglie non si devono sentire sole perché ci sono stati impegni da parte del mondo della scuola, della sanità, delle istituzioni per rafforzare e migliorare la risposta alle loro necessità e su questo c'è già un buon lavoro che si sta facendo questi giorni, ma non basta.